Siamo con Armin Alic, il forte player bosniaco che ha chiuso il Day 1A come Cip Reader con 385 mila fish. Volevo chiedere ad Alin come si è trovato con la struttura di ESOP. Quindi ci ha detto che la struttura è super, adesso volevamo chiedere come è andata questo Day 1A e qual è stato il momento in cui ha avuto il rush che l'ha portato a fare così tante Cips. Io ho sempre chiesto di fare un cardigrante, ho sempre chiesto di fare un cardigrante, ho sempre chiesto di fare un cardigrante, ho sempre chiesto di fare un cardigrante. Dunque c'è stato riferito che lui ha avuto buone carte per tutto il torneo, ha scelto di giocare il Day 1A e piano piano ha maturato questo grosso stack, specialmente nella parte finale del torneo dove ha avuto un rush veramente interessante. Allora chiediamo a Alic se il Day 2 sarà affrontato per implementare il suo stack o solo per andare al Day 3. Quindi avremo un Alic molto aggressivo che punterà quindi alla vittoria del torneo. Vuoi vincere il torneo? Sì, solo il primo torneo. Ci ringraziamo, grazie e buona luck.